L'Expo 2030 si terrà a Riyadh in Arabia Saudita. Tanta amarezza per Roma che ha ottenuto appena 17 voti ed è stata sconfitta anche da Busan in Corea del Sud. 29 voti per la vincitrice Riyadh, ben 119 preferenze. I voti espressi a Parigi dai delegati dei paesi membri del BI e il Bureau International des Expositions hanno fatto ottenere alla città saudita oltre due terzi di preferenze al primo turno sufficienti a evitare il ballottaggio. Delusione per Roma che puntava proprio al ballottaggio ma che invece ha ottenuto solo 17 voti, arrivando terza. Le nostre tre testimonial, Sabrina Impacciatore e Bebevio e la moglie di Sting, Trudy Steyler, erano molto emozionate e hanno dato il massimo per promuovere la nostra capitale. Purtroppo non è bastato, mentre sono in corso grandi festeggiamenti fra gli arabi, traccanti tradizionali, baci e abbracci. Un'occasione persa per Roma ma anche per Expo, una candidatura nata male e sostenuta peggio. Che peccato, scrive sui social il leader di azione Carlo Calenda.